A Spino Dadda Enzo Galbiati ha vinto le elezioni. Dopo una lunga ed intensa campagna elettorale che lo ha visto contrapposto a Paolo Riccaboni, ora Galbiati guiderà il paese per i prossimi cinque anni. È stata davvero una competizione estenuante, ma devo dire nello stesso tempo bellissima perché siamo arrivati all'ultimo voto. Quindi io devo ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto, ma devo dire che davvero per me è stata una gioia oggi perché non era scontato questo voto, non era per niente scontato. Galbiati, già vice sindaco dell'uscente Poli, ha vinto con soli dieci voti di scarto dall'avversario alla guida della lista al servizio degli spinesi. Una campagna elettorale al limite della correttezza, è così, però alcune volte si arriva anche a questo. Io devo dire che è stata davvero una campagna combattuta anche sugli argomenti. Da parte nostra abbiamo sempre messo davanti i numeri, dall'altra parte c'erano le proposte. Penso che abbia vinto la continuità, quindi i numeri a questo punto. Ciò che abbiamo fatto in questi anni è stato davvero tanto, ciò che abbiamo proposto è la continuazione di questo e sarà altrettanto tanto e quindi i cittadini ci hanno premiato.